Musica 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 Usi sempre più stretto il rapporto con Conte Grazie Usi sempre più stretto il rapporto con Conte Grazie, state calmi, fate male, non è una conferenza stampa, non siamo più a parlare di politica, siamo qui a partecipare al Pride, oggi ci occupiamo di queste battaglie e le faremo con chiunque tra le forze politiche e sociali vuole farle insieme a noi, insieme a queste persone che lo meritano. Grazie, buon lavoro!